E se la zucca diventasse la vostra prossima bevanda preferita? Iniziamo! Prendiamo la nostra amata zucca, la andiamo a pulire e a fare cubettoni, poi la lessiamo semplicemente in acqua bollente fino a quando sarà bella tenera. E dopo la zucca, il nostro secondo amore della vita, il caffè. Io faccio una montaglietta, lo dico. Perfetta! Il caffè sta salendo, la polpa di zucca è pronta e frullata, possiamo assemblare. Quindi qualche cucchiaio di polpa di zucca, della cannella e della noce moscata, il latte. Scaldiamo un attimino e poi completiamo con il caffè ancora caldo e qualche ciuffo di panna. Cheers!